Salutiamo finalmente di nuovo Anna, adesso dovevi salutare, non prima, prima dovevi staccare soltanto il pelo Buonasera, buonasera anche a te Anna infatti, ciao, come stai oggi Anna? Guarda, c'ho un po' di mal di testa, però sto bene Eh, quello perché sei vecchia, comunque è normale Anna? No Anna che c'è? No, non ti parlo più Faccio vedere qualcosa di bello? Fai vedere una cosa bella Un axolotl Axolotl, spammate l'axolotl